Buongiorno a tutti, sono la professoressa Angela Tarabella, direttore del Master in Food Quality Management e Communication, un master che ha una vocazione multidisciplinare e cerca di portare in alto le competenze dei discenti nell'area del food. Infatti si propone di coniugare tutti gli aspetti dall'origine delle materie prima, alla produzione, alla commercializzazione fino alla comunicazione, proprio per raccogliere in un unicum progetto la formazione avanzata. È un'esperienza sicuramente unica per i nostri studenti, soprattutto in considerazione del corso sulla qualità tenuto da SGS Italia Spa, leader mondiale nelle certificazioni, che consente di ottenere un'ulteriore qualifica, che è quella di lead auditor secondo lo standard internazionale ISO 9001. Sicuramente è un'esperienza unica per i nostri allievi, perché consente di acquisire competenze nel lavoro di gruppo, nel role planning, nelle simulazioni di ruolo e darà anche la possibilità di confrontarsi con manager aziendali e fare esperienza come auditor, che è sicuramente d'avanguardia in un panorama mondiale dove il settore del food richiede competenze sempre più professionalizzanti. Quindi vi invitiamo per avere maggiori informazioni ad andare sul nostro sito, a prendere contatti con lo staff del master e con le segreterie in modo da poter avere tutte le informazioni che ritenete opportune per fare questa scelta coraggiosa.